Buongiorno video informazione. Vi volevo informare che da oggi 2 e domani 3 novembre all'Eurospin c'è in promozione questa coperta a 1 euro, solo 1 euro. Praticamente è una coperta che infili le mani e la testa, che avvolge mentre guardi la televisione, mentre leggi, quindi costa solo 1 euro, però con un minimo di spesa di 30 euro. Nel Deplian ci sono tantissimi prodotti in promozione validi dal 31 ottobre all'11 novembre. Ci sono tanti prodotti in promozione, tipo questi bocconcini di spezzatino bovino a 5,99, c'è il gorgonzola DOC a 1,49, il vino Chianti DOC a 2,99, questo dal 31 ottobre all'11 novembre. Però ricordatevi bene che la coperta, questa, è solo il 2 oggi e domani 3 con un minimo di spesa di 30 euro. Poi altri prodotti, c'è sempre il vino a 1,45, c'è l'asiago a 6,99, la mortadella che sono 500 grammi a 2,99. Insomma, ci sono vari prodotti che si possono comprare e anche la bresaola, che io ad esempio la bresaola la uso molto, a 2,69. Il formaggio e pecorino a 2,99, l'oltre popovese a 4,99. Insomma ragazzi, ci sono tantissimi tantissimi prodotti, tanti tipi di vino, vedete i prezzi, 2,99, 1,39, non vi sto a dire tutte le marche. La pasta sfoglia a 0,59, la pizzarella, che è questa, pizzarella è un formaggio, praticamente tipo la mozzarella, a 1,39, pancetta 1,35, le mezze lune a 1,99. Allora, come vedete l'Eurospin ha prodotti che sono di ottima qualità e anche a prezzo accessibile e molto molto economico. Il latte, il mezzo lito di latte, 0,29. Poi cos'altro c'è? La pasta di semola, 0,49. Le olive, c'è in promozione sempre a 0,99. Insomma ragazzi, vi conviene farvi un giro all'Eurospin perché c'è veramente, veramente di tutto. I cracker, adesso io prendo dei pezzi così da dire, 0,69 i cracker, i croissants 1,99 con la crema al cioccolato e pasticceria. Il caffè, il caffè 1,39, gli Erez, poi cosa c'è? Lo scotch, vabbè, ci sono tanti tanti altri prodotti. Poi altre cose, i vari detersivi, pazzoletti da naso 0,99. E poi, ad esempio, anche queste che io le ho già prese sono anche buone. L'indineo e lo scoglio, 500 grammi sono per due persone a 2,49. Praticamente ho fatto un primo con 2,49 e mangiato in due. I franci di pizza margherita a 2,99. Poi, d'altro, c'è ancora di interessante, se non ci tenete alla dieta, c'è lo speciale cioccolato. Quindi, profiterola, 3,99. C'è le vienette, mamma mia, il tronchetto, al cocai, vaniglia. 1,19 l'ho già preso. Un'altra cosa che non avevo mai provato e che adoro, la cioccolata. Questa, la cioccolata con le mandorle, provatela, provatela, provatela. 1,69. Io l'ho presa per fare gli eventi in palestra, dopo il fitness. Tutte varrate, praticamente sono quadratini, li ho tutti spezzati a metà. E ogni tanto ne mangiavamo un quadratino, però, giuro, io ne ho mangiata tanta perché è veramente buona. E tutti i vari tipi di cioccolatini, che non sono poi cari. Lo stesso, le arance, 0,99, 1,49 litere. Le castagne con la padella, 5,99. La padella e le castagne, 3,99. I vari tipi di verdura. E anche la carne, ho provato anche la carne. E devo dire che è ottima. È ottima anche la carne, veramente. Specialmente il pollo. I cannelloni, 2,19. E poi ci sono vari prezzi, se puoi interessare, pentola e pressione, la piastra, induzione, che costa 34 euro. Hanno anche questi prodotti casalinghi, vari giochi. Già è Natale, si può comprare, vabbè, i viaggi, però quello che a noi interessava era questa. Che con un minimo di spesa si può comprare la coperta a un euro. Io ho già preso il bollitore, ho preso la pentolante aderente per fare le crepes a un euro. E devo dire che funzionano. Adesso voglio prendere anche questa coperta. Ricordatevi, da oggi, 2 e 3 novembre domani. Quindi venerdì e sabato questo. Mi raccomando, fate la spesa all'Eurospir e prendetevi questa coperta per guardare la TV o leggere un libro. O prendere delle coccole dal vostro amore. E se non avete il vostro amore, dai vostri vici, dai vostri cani o da voi stessi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.